CBM è specialista nella progettazione e produzione degli attacchi a tre punti e dei sistemi di aggancio rapido di traino per trattori agricoli. E con MIT è leader nel controllo oleodinamico e elettronico del sollevatore a sforza e posizione controllati e dei distributori ausiliari. Gruppo CBM significa una grande passione di quasi 50 anni per la qualità ricerca, innovazione e lo sviluppo di moderne tecnologie. X-Tractor è un'arena dove la tecnologia sfida l'imprevisto e CBM e MIT sono presenti all'appuntamento. CBM va oltre l'idea della sponsorship e preferisce parlare di partnership. È così che concepiamo il rapporto con i nostri clienti, i costruttori e i trattori ed è con questo approccio che partecipiamo alla spedizione. Lavoriamo per la soddisfazione non solo del nostro cliente ma soprattutto dell'utilizzatore finale che nei nostri prodotti deve trovare la massima efficacia, precisione e sicurezza. Siamo certi che X-Tractor darà grandi emozioni e soddisfazioni non solo a noi che lo facciamo ma anche ai fruitori finali, cioè a chi assisterà da casa allo svolgimento della spedizione.